Musica Nuovo appuntamento con le notizie di oggi a nord-est. È morta all'ospedale di Treviso. La donna di 76 anni è risultata positiva al coronavirus e ricoverata in rianimazione nell'ospedale cittadino. Lo ha reso noto la Regione Veneto. L'anziana è deceduta nel reparto di terapia intensiva del Caffoncello. Affetta da importanti patologie pregresse, era stata portata in ospedale, risultando poi positiva al test per il Covid-19, morta a causa di complicanze respiratorie e insorte. Nelle ultime ore. L'azienda ospedaliera di Padova ha provveduto alla prima dimissione protetta di una paziente ricoverata dopo che è stata riscontrata positiva al coronavirus. La signora è stata accolta dalla struttura sanitaria il 23 febbraio con l'Inc epidemiologico, contatto presso locale pubblico comune di Voh. La diagnosi certificata di sanitari è infezione da SARS-CoV-2, verosimilmente pregressa asintomatica. La paziente aveva presentato una sola puntata febbrile il 18 febbraio scorso ed era risultata positiva al tampone effettuato il 22 successivo. Poiché durante il ricovero la signora è stata asintomatica e vive in abitazione singola, sono stati attivati servizi territoriali competenti per l'attivazione dell'isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni, con un inizio considerato dal 22 febbraio. Misure straordinarie e norme specifiche studiate per affrontare le criticità legate all'impatto che il coronavirus sta avendo sull'economia del Friuli Venezia Giulia saranno avviate dalla Regione con sviluppo impresa, disegno di legge che approderà in Consiglio regionale nei primi giorni di marzo. Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia Caterieste, assieme a vice governatore e gli assessori al lavoro e le risorse agroalimentari, ha incontrato i rappresentanti regionali delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali per una valutazione comune sulle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza attuale. Parallelamente il governatore ha riferito di aver richiesto nella riunione del Comitato dei Ministri e dei Presidenti di Regione un intervento deciso e urgente da parte del Governo affinché disponga misure nazionali di carattere straordinario anche in Friuli Venezia Giulia a sostegno di tutti i settori che registrano primi segnali di crisi. Siamo quasi sull'orlo del collasso, il turismo ha subito cancellazioni dall'80 per la città fino al 95% in montagna e anche a Trieste sta avendo dei grossi problemi già in vista dell'estate. Lo ha detto la Presidente di Federalberghi FWG Paola Schneider al termine dell'incontro che si è tenuto in regione con i rappresentanti regionali delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali per una valutazione sulle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza coronavirus. Per quanto riguarda la montagna, ha sottolineato Schneider, stiamo sul disastro, il 29 febbraio chiuderanno moltissimi alberghi in tutta l'area montana proprio perché non c'è più gente e emergenza anche dal punto di vista delle presenze straniere. L'assenza di responsabilità esterne da parte di terzi, e cambiamo argomento, nella morte del bambino di 20 mesi deceduto nel suo lettino lo scorso mercoledì è stata confermata dall'autossia eseguita all'ospedale di Gorizia su richiesta della Procura della Repubblica. A condurre l'esame necroscopico sul corpo del piccolo è stato il medico legale di Udine Lorenzo Desinan. Per conto della famiglia era invece presente dottor Alessandro Peretti di Trieste. Per conoscere le cause che hanno portato al soffocamento del bambino si dovrà attendere la relazione che verrà consegnata dal dottor Desinan al sostituto procuratore Valentina Bossi. Ma prima che sul tavolo del magistrato arrivino le conclusioni definitive, dovranno essere effettuati alcuni esami. Dalle prime risultanze tuttavia è stato appurato che l'ipotesi diversa dalle cause naturali sono da considerarsi remote. Si sarebbe dunque trattato di una tragica fatalità. Si è presentato da solo nella caserma dei Carabinieri della compagnia di Saccile. Sono io l'investitore. Sessant'anni operaio ganese. Si è costituito dopo aver consultato l'avvocato Laura Ferretti. Il legale era fuori città e non poteva garantirgli assistenza direttamente, ma non ha avuto dubbi da farsi. L'ho consigliato di andare subito dai Carabinieri, ha confermato. Non si era resa conto di aver investito una persona, pensava di aver travolto un animale, un cinghiale o un cervo. È sceso, si è guardato attorno, ma non ha notato nulla e si è allontanato. L'auto dell'uomo è stata posta sotto sequestro da parte dei Carabinieri della Radiomobile. I segni dell'incidente sono evidenti sul cofano e sul lato destro del Parabrezza. Il sostituto procuratore Federico Facchin ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di lesioni stradali gravi. Farmana Lidi, 29 anni, origini pakistane, residente a Maniago ma con domicilio a Pordenone, sta lottando per la vita all'ospedale Santa Maria degli Angeli. È ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono disperate, i medici stanno facendo il possibile per strapparlo alla morte. No a qualsiasi ipotesi di ulteriori ritardi nella realizzazione del Piano Nazionale di Diffusione Banda Ultralarga, BUL, nessun avvallo a decisione che vadano in questa direzione da parte del COBUL. Il comitato che sovrintende l'attuazione di questa importante infrastruttura è piena disponibilità a gestire autonomamente i tratti che Open Fiber non è in grado di ultimare nei tempi stabiliti. Questi in sintesi i principali passaggi di un documento che l'assessore ai sistemi informativi nella sua veste di coordinatore della Commissione Agenda Digitale della Conferenza delle Regioni e Provincia Autonome ha presentato a Roma nel corso della riunione del Comitato per la Banda Ultralarga durante un incontro che si è tenuto al Mise lo scorso 20 febbraio, al quale hanno preso parte tutte le autorità di gestione dei fondi FEASR e FEASR delle Regioni Italiane e Provincia Autonome. Infatti è stato comunicato che sarebbe destinato a proseguire almeno fino al 2023 il piano tecnico di realizzazione dell'intervento per quanto concerne le aree bianche, quelle ritenute meno interessanti da un punto di vista economico dagli operatori delle telecomunicazioni, come per esempio le zone montane. Inoltre per ben 1113 comuni italiani, finora sospesi e programmati per il 2021, risulterebbero definitivamente esclusi dal piano di intervento aree bianche in quanto presenterebbero già disponibilità di banda ultralarga per oltre il 95% delle unità immobiliari. In chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo sul Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza nuvoloso, con precipitazioni in genere moderate ad ovest, abbondanti ad est, quota neve oltre i 600 metri circa, possibili anche temporali. In serata soffierà bora sostenuta, specie la sera sulla costa. Domani al mattino cielo sereno poco nuvoloso e sulla zona montana farà freddo. Nel pomeriggio cielo nuvoloso coperto con vento da sud moderato. In serata possibile qualche debole precipitazione, più probabile in montagna. In tarda serata vento sostenuto da sud ovest sulla costa e in quota in montagna. Passiamo al Veneto, nuvolamenti alternati a schierite, con tratti di instabilità soprattutto al pomeriggio. Domani tempo più stabile, in prevalenza soleggiato, specie al mattino con aria asciutta e buona visibilità. Nel pomeriggio maggiormente nuvoloso, specie in montagna e sulla pianura interna. Poco o parzialmente nuvoloso verso la costa. Previsioni a cura di ARPAFWG Meteo e ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto. Appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.